Prosegue a ritmi elevati e con grandissimo entusiasmo il ritiro precampionato del città di Messina. Circa 40 agli atleti agli ordini del mister Giuseppe Furneri e del suo staff tecnico, tra elementi riconfermati e calciatori in prova, che si stanno allenando al Garden Sport di Milimarina. Ufficializzate le riconferme del portiere Sebastiano Paterniti, del difensore Domenico Bombara, degli esterni Alessandro Fragapane, Francesco Di Stefano e Manuel Mannino, dei centrocampisti Francesco Cardia e Giuseppe Quintoni, Francesco Calcagno e Sergio Silvestri e dell'attaccante Alessandro Codagnone. Presenti a Milimarina tanti giovani del florido vivaio messinese, tra cui Grasso, Dama e Di Vincenzo. Ufficializzati gli acquisti dei giovanissimi centrocampisti Francesco Cannino e Nunzio Nicosia, entrambi nativi del 2000, provenienti rispettivamente dal Castelbuono e dal città di Caccamo, in eccellenza, e di Cristian Ferraù e Samuel Portovenero, entrambi prodotti del settore giovanile del città di Messina. In prova tanti elementi, tra cui il portiere Giorgiano Bericashvili, il giovanissimo estremo difensore Amella, i giovani Crucitti e Saia, il tersino Viscuso e l'ex attaccante del Fondi di Giacomo. Ma soprattutto c'è il centravanti albiceleste Fabian Galesio, classe 1993, nativo di Cordoba. Punta centrale, forte fisicamente in virtù dei suoi 188 centimetri di altezza, in Argentina ha vestito le maglie di Istituto ed Arsenal e lo scorso anno ha realizzato due gol in Serie D con la maglia dell'arma nella sua prima esperienza italiana. Salito alla ribalta della cronaca, dopo aver vinto il Grande Hermano, l'edizione argentina del Grande Fratello, dove ha conosciuto Ivana Icardi, sorella del capitano dell'Inter nonché attuale fidanzata di Galesio. Nei prossimi giorni raggiungerà il gruppo giallorosso il difensore brasiliano Ronaldo Trevisan, classe 1986, lo scorso anno a Licata, mentre nel weekend la società incontrerà il forte attaccante Raffaele Ortolini, classe 1992, autore l'ultima stagione di ben 14 gol in 32 partite nel campionato nazionale di Serie D con la maglia della cittanovese.